Il Piemonte ha strappato un primato all'Emilia Romagna, la ciliegia più pesante in assoluto appartiene a un'azienda agricola del comune di Pecetto in provincia di Torino. Il primato di ciliegia più pesante al mondo spettava fino alla scorsa settimana ad un'azienda di Ferrara. 26 grammi era il peso record al mondo fino ad una settimana fa. Adesso però è arrivata l'ufficialità da Londra. Il nuovo Guinness dei primati mondiale appartiene all'azienda agricola di Pecetto Cascina Canape che con 33,051 grammi ha stabilito il nuovo primato. Un traguardo che inorgoglisce i fratelli Alberto e Giuseppe Rosso, ceresicoltori da quattro generazioni. Sono Alberto Rosso, conduco l'azienda agricola Cascina Canape assieme a mio fratello Giuseppe, siamo a Pecetto Torinese e produciamo le ciliegie di Pecetto. La nostra azienda si estende su circa sei ettari di coltivazioni tra le ciliegie che sono in piena produzione, quelle che si stanno introducendo e quelle che sono a fine carriera. Noi siamo in questa cascina da oramai quattro generazioni. Questa cascina l'aveva comprata nostro bisnonno nel 1915 circa e da sempre coltiviamo le ciliegie. Ci siamo fatti un'ottima esperienza anche e soprattutto in questi ultimi anni dove si può dire che sta avvenendo un po' una rivoluzione nella coltivazione delle ciliegie. In azienda abbiamo circa una settantina di varietà di ciliegie, diciamo non tutte proprio per fare una produzione commerciale, alcune sono anche la vecchia pianta che ci è rimasta lì per tradizione o perché comunque vogliamo conservare quella determinata varietà. Per cui coltiviamo ancora le vecchie varietà di Pecetto tra cui nomino la Vittona e il Galuchu che sono due ottime varietà. E poi ci sono tutte diciamo varietà di nuova e recente introduzione che abbiamo cercato comunque di introdurre per andare incontro ai gusti del consumatore che cambiano continuamente. Oggi nella ciliegie si ricerca oltre al gusto che deve essere sempre ottimo la dolcezza, la croccantezza e anche la pezzatura. In azienda coltiviamo le nostre ciliegie secondo i principi della lotta integrata. Questo vuol dire coltivare le ciliegie col minor uso di prodotti chimici possibili. Praticamente utilizziamo appunto pochissimi prodotti chimici, solo quelli consentiti dalla disciplina di riproduzione e applichiamo il più possibile sulle nostre piante metodi di lotta fisica all'avversità atmosferica. Questo vuol dire coprire le piante dalla pioggia perché pochi lo sanno ma le ciliegie patiscono tantissimo la pioggia. Quando la pioggia scorre sul frutto crea delle crepe e fa marcire il frutto. E poi negli ultimi impianti abbiamo anche introdotto un nuovo sistema che copre la pianta dalla pioggia nella parte superiore e protegge la pianta con delle reti antisetto lateralmente. Questo per la maggior salubrità del frutto. Quest'anno purtroppo l'annata è cominciata non benissimo perché abbiamo avuto delle forti gelate a inizio aprile. Devo dire per la verità che noi come azienda siamo stati colpiti marginalmente rispetto a altre aziende invece dove il danno è stato molto più elevato. Questo però ha fatto sì che comunque i frutti rimasti sono stati di qualità elevatissima. Oggi siamo qua nella nostra cascina perché è da alcuni anni che inseguiamo un piccolo sogno che avevamo nel cassetto. Sapendo che il Guinness World Record della ciliegia più grande del mondo era l'altro anno fino all'altro scorso anno di 23,45 grammi lo scorso anno ed è stato assegnato pochi mesi fa il record è passato a 26,45 grammi ed è tornato in Italia da una regione estera e noi avevamo già notato lo scorso anno che avevamo delle ciliegie con un peso anche superiore a questo e in effetti oggi abbiamo avuto qua da noi in cascina la presenza dell'INRIM che è l'Istituto Nazionale di Ricerca e Metrologia che sono quelli diciamo ufficiali per il peso in Italia che con i loro strumenti di precisione hanno pesato quella ciliegie che noi ritenevamo che fosse la più grande raccolta proprio oggi qua in cascina e il peso risultante è stato di 33,051 grammi e questo fa sì che dovremmo riuscire a prendere a noi il Guinness dei primati. L'ortopra si occupa di selezionare e commercializzare prodotti di alto di gamma l'alto di gamma che cos'è? è una cosa molto difficile da trovare perché molta merce si produce in tutta Italia, in tutto il mondo ma poca di alta qualità oggi sono qua a Pecetto perché finalmente siamo riusciti a fare una cosa speciale abbiamo raggiunto questo record e questo record fa parte di un percorso di molti anni di lavoro e abbiamo lavorato sulla qualità fare qualità vuol dire investire molto denaro da parte di chi produce e vuol dire avere la sensibilità da chi poi porta questo prodotto ai consumatori di mettere il prezzo giusto perché il produttore che fa alta qualità deve realizzare più di più di quello che fa una qualità media o scadente nel mondo secondo me in questo momento un prodotto italiano non si può più permettere di essere un prodotto di poca qualità o di scarsa qualità il prodotto di basso prezzo lo producono tutti noi siamo vocati secondo me per produrre un prodotto di alta qualità e in Italia il produttore che fa questa scelta alla fine secondo me riesce sempre a portare fuori un reddito sostenibile sono il selezionatore dell'ortofrutta per quanto riguarda i negozi di Italy che vanno dal Piemonte al Friuli in più abbiamo questi due punti vendita all'estero uno a Monocle di Baviera e l'altro a Parigi e mi occupo giornalmente tutti i giorni di selezionare per Italy il meglio per poterlo proporre a questo tipo, a questo target di consumatori molto esigenti questa azienda l'ho conosciuta nel 2008 perché allora faceva poche ciliegie, molto meno di adesso però faceva già allora tanta qualità il mercato di Milano certamente è dove noi abbiamo una vendita al dettaglio è un posto dove si vende bene questo prodotto ma incredibilmente è a Parigi dove i parigini gustano queste ciliegie enorme con un gusto pazzesco perché? Perché sono molto abituati da sempre ad apprezzare l'alta qualità quindi noi vendiamo queste ciliegie in tutto il nord Italia a Parigi e a Monaco di Baviera in Germania Il buon prodotto italiano è una cosa incredibile perché soprattutto quando vai all'estero e fai assaggiare e fai vedere questi prodotti ti ritrovi davanti della gente veramente che rimane con la bocca aperta Grazie a tutti Grazie a tutti.